27 si fermano in disordine al semaforo giacche a vento rosse blu gialle aspettano il verde sciami di corpi magri grassi piccoli allampanati tutti con la divisa jeans sembrano cavalli alla linea di partenza al verde il gruppo si apre si scompone torna a chiudersi nugoli di piedi trascinano scarpe adolescenti già invecchiate per i tanti chilometri di polvere e di sudore al prossimo semaforo si fermano in disordine commento a molti adulti gli adolescenti sembrano delle bestioline e perché a quell'età la coscienza non si è ancora collegata ai corpi inferiori ogni momento della nostra vita è fatale nella sua perfezione